Ancora una volta insieme buongiorno, buongiorno amici e ancora una volta per quanto riguarda la rassegna stampa che parte alle 6 e 30 precisi puntuali, buongiorno amici di Nord-Est 24, buongiorno amici della televisione canale 15 che ci seguono nella replica anche del pomeriggio, quella delle 16 e 30. Tra poco andiamo a vedere di cosa parliamo oggi, abbiamo notizie da una parte confortanti per quanto riguarda sicuramente la questione dei ricoveri sia ordinari ma anche di terapie intensive, tutto ovviamente concentrato un pochino a Nord-Est perché andiamo a analizzare quella che è la situazione proprio tra Friuli, Venezia e Giulia e Veneto, dall'altra parliamo invece ancora una volta della questione varianti che preoccupano soprattutto esperti e governo e poi quelle che sono le prime misure di cui si è parlato nella giornata di ieri ancora per cercare di frenare il contagio con ipotetiche zone e rosse ancora arancioni nel fine settimana da istituire alla luce di quello che sarà un po' l'analisi che arriverà nella giornata di venerdì. Ne parliamo però tra poco, prima di tutto vado ad aprire immediatamente quella che è la diretta Facebook per quanto riguarda gli amici che ci seguono anche sui social network, do il buongiorno a quanti siano collegati con noi, buongiorno insomma ai carissimi amici come Esther Bellanca, buongiorno, ciao Laura, ciao Elena, Marco, sei già presente Marco? Sei già pronto operativo? Buongiorno anche a te caro, abbiamo Sonia che è collegata, Hermes dove chiedice tanti auguri a me, buon compleanno al nostro amico Hermes Pandolfo, tanti auguri a te, è proprio il caso di dirlo. Ciao caro Hermes, buongiorno, ancora Fabio collegato con noi, Marco Boscariol, abbiamo Mariana, ancora Mariana che invia un po' di stelle ci dà un aiuto, Roberta Sist, Davide Piccin, Gianni delle Case, buon di, Marlen Torres, Giorgia, buon mercoledì da Padova, buongiorno gli amici di Padova, oggi parliamo di Veneto ma anche di Friuli Venezia Giulia, parliamo di tante notizie chiaramente nazionali legate ovviamente poi alla cronaca, a quello che succede in Italia ma soprattutto quelle un po' di cui si è discusso nella giornata di ieri, come dicevo poco fa anche salutando gli amici in apertura, ricordando un po' come partiamo oggi, partiremo sicuramente con i numeri importanti, con Veneto che raggiunge il suo primo record, ecco da un punto di vista insomma in miglioramento delle ricoveri molto molto ridotti negli ospedali, appunto abbiamo le terapie intensive anche in Veneto che ieri hanno toccato il minimo storico, ecco se possiamo definirlo così da ottobre, del 91 unità, quindi siamo sotto accento in modo ufficiale, questo lo dico per assicurare un po' le persone, non è un via libera tutti sicuramente, dall'altra parte per quanto riguarda l'informazione dovremo parlare però ancora di variante perché è vero si riducono contagi ma c'è insomma preoccupazione dal governo come vedremo poco fa, quali sono le misure che vogliono prendere in esame, ok? Maria Grazia buongiorno, ciao Francesca Bettini che mi saluta, abbiamo Claretta Boemo che mi dà il buondì anche a lei, Rita Costa un abbraccio virtuale a tutti, ciao Rita grazie per seguirci ogni giorno fedelmente, abbiamo anche Enrico, Anna buongiorno Roberto per favore buone notizie, ciao Anna, abbiamo Marta, Marta Ciani carissima come va? Sei già operativa anche tu? Sandra Veracchia, abbiamo Giorgia, buongiorno a tutti, ci saluta, Claretta ci dà anche un prezioso aiuto con un po' di stelle, insomma a sostegno anche dell'informazione che facciamo gratuita tutte le mattine, Giulila, buona giornata mi dice, buongiorno anche a te, abbiamo Daniela che mi saluta dalla Sicilia anche lei sempre molto molto fedeli. Allora partiamo con l'informazione, andiamo con l'argomento del giorno, il numeretto whatsapp per entrare in diretta con noi è 327 94 39 574, gli amici ormai hanno già imparato a conoscerlo, lo ripeto per cui ogni giorno abbiamo un sacco di persone nuove che si aggiungono all'informazione. Abbiamo Giulietta Stefanuti che dice buongiorno Roberto da Gorizia, oggi abbiamo un grado, quindi le temperature che stanno un po' risalendo, vero Giulietta? mi sembra di capire proprio questo che diciamo che il grande freddo così come doveva essere nulla di tragico, ma insomma le temperature più rigide ormai le abbiamo passate, sorpassate. Abbiamo grazie a chi mi saluta e mi dice buongiorno Nord-Est a tutti voi, saluti dalla Sardegna, allora salutiamo gli amici anche della Sardegna, di tutte le altre regioni d'Italia che ci seguono non solo in Italia ma soprattutto sappiamo siamo molto molto seguiti e quindi saluto e abbraccio virtualmente quanti ci seguono dall'estero in tutte le altre nazioni d'Europa e non. Abbiamo Khalid che ci saluta da Sacile, Emanuele Donda, Gianpaolo Corazza, Elena Fontana che invia un po' di stelle, grazie Elena, grazie mille, davvero di cuore. Ok, andiamo, 6.35, come di consueto sono passati ormai i primi 5 minuti che ci consentono di andare a fare un po' di saluti, ancora qualche amico che ci racconta qualcosa, ci saluta, ci racconta anche le temperature, ci fate questi aggiornamenti. Oggi da cosa si parte? Beh, si parte sicuramente a notizie in parte confortanti per quanto riguarda sicuramente la riduzione del contagio, della percentuale del contagio ma anche del meno ricoveri negli ospedali tra Friuli e Veneto, come stavo dicendo, giusto per accennarlo perché sono dati molto significativi in Veneto ieri terapie intensive che raggiungono il minimo record con 91 unità così come comunicatoci direttamente dal SUEM, mentre invece idem in Friuli-Venezia-Giulia i ricoveri ordinari che scendono per la prima volta dopo mesi sotto quota 400, quindi siamo a 396 indicativamente, insomma le persone ricoverate negli ospedali ma quello che conta di più è che sono pochi, si sono ridotti drasticamente i nuovi ingressi, i nuovi ricoveri negli ospedali. Dall'altra parte se queste notizie un po' danno un po' di conforto riguardo a meno persone che stanno male, abbiamo insomma tutto il caso l'incubo legato alle varianti sicuramente in Veneto ma anche in Friuli-Venezia-Giulia dove vediamo ora nelle tabelline che raggiungono la quota del 20% come percentuale legata alle infezioni persone positive di cui appunto 20 su 100 hanno questa variante. Però ecco perché secondo gli scienziati, secondo gli esperti queste sono insomma più violente tra virgolette, nel senso sono in grado di procurare più sintomi e anche più disagi, anche sono facilmente replicabili e comunque contagiose. Allora mentre in Italia è allarme per le mutazioni vi ricordo ancora che come dice il sottotitolo del giornale terapie intensive in Veneto sono scese finalmente sotto quota 100 quindi non c'è più questa vera e propria emergenza legata alle terapie intensive della regione Veneto per quanto riguarda vaccini buona notizia ancora perché Zaia dice ho parlato con Narkuri, aspetto il sì per acquistarli quindi andiamo proprio verso questa direzione. Questa è una cosa buona, ne parleremo ancora tra un po', intanto io lo accenno quindi ancora per quanto riguarda questo contatto con Narkuri dice Zaia aspetto l'ok per i vaccini, le nostre dosi per l'Italia che potrebbero insomma in qualche modo chiudere il contratto. Il commissario nazionale per l'emergenza ha chiesto tutti i dati in merito proprio alle forniture che sono state offerte all'Italia, tra l'altro con lo stesso prezzo quindi non rincarate come qualcuno magari sostiene, Bonaccini ancora Emilia Romagna pronta ad acquistare le fiale pure loro insieme al Veneto e sappiamo che in questa operazione importante si unisce anche il Friuli Venezia Giulia, questo è una buona cosa speriamo insomma che vada anche in tal senso. Ancora abbiamo insomma la linea dura del governo che se da una parte oggi apriamo con buone notizie per quanto riguarda il rallentamento del contagio e ancora ricoveri che sono ormai scesi sotto le unità di crisi, definiamola così perché avere 90 persone ricoverate nelle terapie intensive di tutto il Veneto è un buon numero nel senso dispiace per loro che lo sono ma rispetto alle 400 di cui parlavamo alcune settimane fa sono numeri completamente diversi tra loro. Idem vale per il Friuli Venezia Giulia che vede insomma sotto i 400 i ricoveri ordinari non sono i 600 anche qui di cui parlavamo a fine gennaio. Dall'altra parte dicevamo se questa è la situazione un po' confortante abbiamo il governo che ieri nel pomeriggio sera già pensa invece a dei mini lockdown ancora ma non stiamo parlando di nazionali no? Non stiamo parlando di chiusure di tutta Italia, ascoltate bene quello che dico senza poi commentare a casaccio dicendo di cosa state parlando ma stiamo parlando ancora di manovre da parte del governo dedicate mirate ai weekend ovvero potrebbero tornare secondo agli esperti dal fine settimana ancora queste chiusure legate proprio al fine settimana del venerdì, sabato e domenica dove si è vista la maggior concentrazione di persone e rischio di contagio. Questi lockdown così tanto citati e nominati questi giorni nelle varie testate non sono di carattere nazionale di tutta Italia ma mirati come oggi viene descritto bene dai quotidiani. Il comitato tecnico scientifico dice che sarà ridimensionato traducendolo per le persone che non comprendono cosa significa vuol dire che vengono limitati a province o comuni o nel caso peggiore a regioni dove appunto contagi soprattutto leganti a variante possono preoccupare quindi cosa significa a livello pratico? Nel fine settimana oppure durante la settimana se i dati preoccupano potrebbero esserci eventuali nuove zone rosse, zone rosse rafforzate oppure zone arancioni nel weekend per cercare di frenare questa cosa. Il primo test come dice il giornale potrebbe arrivare già questo fine settimana con il monitoraggio che sappiamo ci attende tutti i venerdì quindi tutti i fine settimana. Il venerdì Speranza va un po' a riferire quelle che sono secondo la cabina di regia i dati che emergono. Tra un po' li vediamo perché qualcosa già è stato pubblicato qualcosa già lo abbiamo se qualcuno dice qual è insomma questo monitoraggio legato alla variante che tanto preoccupa scienziati e virologi questa variante con la media in Italia che ormai raggiunge il 17,8 per cento. Friuli Venezia Giulia che è arrivato a quota 20-30 per cento in Lombardia 15 in Liguria lo vediamo qui nella tabellina Abruzzo 50-65 con una situazione preoccupante da questo punto di vista con le province anche di Pescara Chieti 25 in Campania e poi ancora abbiamo il nord est con il 20 del Veneto Puglia 15 e 5 Toscana 8 e 4 30 casi in Lazio 27,9 in Emilia Romagna. Ecco questo un po' anche per darvi una panoramica di quella che è la percentuale dei contagiati con le varianti di cui stiamo parlando e alle quali seguiranno delle misure come delle zone rosse mirate che vuol dire legate ai comuni dove si ci sono queste concentrazioni alle province o al massimo alle regioni che potrebbero subire nuove restrizioni a breve così dicono ok. Si parla quindi di varianti inglesi Lombardia ci sono già attive quattro zone rosse il Veneto invece migliora quello con la quale abbiamo aperto la notizia di oggi il rassegna scusatemi di oggi è proprio questa discesa repentina veloce importante dei pazienti gravi ricoverati nelle terapie intensive che raggiunge questo minimo storico record di 91 come vediamo proprio qui sotto regione in controtendenza Veneto rispetto a tutta l'Italia perché Friuli e Veneto stanno andando con dati in miglioramento la nuova mutazione però per quale appunto c'è preoccupazione dicono che sia molto più contagiosa la mortalità può arrivare addirittura al 70% quindi ci vanno cauti ok questo è un po' come abbiamo aperto oggi per quanto riguarda quella che è la situazione in Italia ma che è molto molto diversa in Veneto e Friuli e Venezia Giulia l'avete visto credo non ci sia bisogno di ripeterlo ancora una volta ricordo il numeretto siamo in diretta 642 buongiorno agli amici che ci seguono live ma in particolare quanti collegati sono proprio nella fascia del pomeriggio con la replica sul canale 15 ricordo il numero per contattarci 327 scriveteci 94 39 574 un caro saluto anche gli amici che mi sostengono come il nostro caro Learco Muzzati buongiorno Learco saluto catto Stefano buongiorno Roberto oggi con piacere riesco a seguirti in diretta se non lo faccio al mattino dopo qualche ora mi aggiorno indifferita grazie e buon lavoro grazie Stefano so che molti non potendo poi seguirci in diretta live ascolta un po' più tardi nella registrazione fa molto piacere ciao caro saluto Oscar velocemente che ci saluta ed è collegato dall'Honduras quindi tendo un po' sottolineare quando le persone ci seguono anche da molto lontano perché fa piacere sapere che l'informazione è a disposizione anche per loro abbiamo Davide Piccin che mi sostiene anche a Mauro Pivetta lo fa in ugual misura come Elena Fontana e tanti altri che appunto ci danno oltre al buongiorno anche un caro saluto e sostegno saluto Daniela Fabrici che dice ti saluto e ti ascolto dalla macchina mi raccomando Daniela guarda bene avanti concentrata mani sul volante ok comunque mi fa molto piacere che ci segui dall'auto non sei solo tu molti anche trasportatori o anche autisti no quelli che portano i pazienti in dialisi anche altri proprio ci seguono mentre si spostano questo mi fa piacere allora ciao Gianni ciao Gianni Ragagnini ciao Patrizia quanti siete sempre tantissimi torniamo nell'informazione allora facciamo un piccolo repilogo veloce perché so che qualcuno si collega solo un attimo dopo di cosa abbiamo parlato oggi questa mattina abbiamo aperto con le notizie rassicuranti per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia lo dico ancora una volta in controtendenza rispetto ai dati dell'Italia il Veneto e il Friuli sta vedendo una discesa dei recovery quindi ci sono meno persone ammalate da covid che entrano negli ospedali ok spero di averlo detto in modo semplice questo è il dato migliore che abbiamo negli ultimi 7-14 giorni poi ci possiamo spingere dicendo di più perché secondo i dati delle ore 11 di ieri mattina secondo il SUEM del Veneto cosa succede in Veneto raggiungiamo il minimo storico dei recovery in terapia intensiva che va a quota 91 quindi dalle 400 di cui parlavamo diverse settimane fa 300 250 che poi pian piano erano iniziati a scendere siamo arrivati a 91 questo non per festeggiare come diceva qualcuno ieri nei commenti nessuno deve festeggiare nulla non c'è nulla da festeggiare ma sicuramente se vediamo che si parla di incubo varianti se leggiamo che spingono per linee dure come lockdown dobbiamo sapere che questi se saranno saranno fatti secondo il governo in modo mirato specifico chirurgico quindi legato a singoli comuni a singole province quindi voglio rassicurare le persone che mi scrivono i messaggi messenger whatsapp e mi dicono come ieri sera roberto è vero che ci vogliono chiudere l'italia per tre settimane no non è questo non è questo ok quindi io vado a rassicurare tutte le persone un po in ansia perché queste informazioni che voi trovate con lockdown come l'avevamo conosciuto in primavera non c'è in questo momento poi non dico non so cosa succede domani ma ad oggi le fonti ufficiali che arrivano da roma sono che potrebbero essere istituite delle zone rosse vuol dire che si esce di casa solo per motivi legati proprio a estrema necessità in quei comuni in quelle province o in quelle regioni dove i dati preoccupano ho mostrato anche quelle che sono le percentuali un po per assicurare le varie persone diciamo che quelle più vicine a noi come Friuli Venezia Giulia e Veneto vedono questa percentuale legata all'infezione dalla variante del Covid-19 di cui si parla in questi giorni con appunto un'alta capacità anche di contagio che appunto Friuli e Veneto saranno fermi al 20% 20 persone su 100 trovate positive al coronavirus manifestano quindi un contagio legato alla variante di cui si parla in questi giorni va bene in questo momento non ci sono indicazioni di lockdown nazionali non ci sono indicazioni di restrizioni per tutta l'Italia ma sicuramente un piano di intervento da parte del governo per andare a frenare il contagio questo cosa riguarderà riguarderà soprattutto il fine settimana se leggiamo i vari articoli che troviamo oggi in edicola ma ancora leggiamo quelli che sono i comunicati che arrivano dalle fonti di Palazzo Chigi e ancora dai ministri si parla quindi di andare a eventualmente reintrodurre zone ipotetiche arancioni o zone rosse nel fine settimana in quelle località dove la situazione non è buona o c'è un reale rischio alto di contagio ok questo è un po per riassumere quello di cui abbiamo parlato questa mattina abbiamo parlato però anche di cose buone nel senso che abbiamo anche insomma Zaya che si sta muovendo insieme ad Emilia Romagna ancora Friuli Venezia Giulia per uscire dall'incubo anche della ricezione a poi ricevimento delle fiale per andare a somministrare soprattutto poi più anziani insegnanti e quant'altro abbiamo insomma Arcuri che ha preso possesso un po di tutta la documentazione che stanno per andare ad approvare a ballare quelle che sono le due offerte che sono state fatte proprio a nord est per l'approvvigionamento di tutte le fiale in ugual misura nel senso proprio anche da un punto di vista economico senza rincari così come le hanno avute anche le altre regioni allora abbiamo parlato di questo all'inizio ma non abbiamo parlato solo di quello no abbiamo andiamo abbiamo parlato anche di vaccino e tant'altro e purtroppo ci sono notizie che non sono rassicuranti ma lo sappiamo penso che non siano novità nel messaggero veneto oggi in edicola si parla proprio di assunzioni di questo crollo legato insomma al più difficile momento che stiamo vivendo dove abbiamo una diminuzione solo per fare un esempio pratico in Friuli del 20 per cento 23 proprio per quanto riguarda lavoratori che non vengono appunto rinnovati oppure che non possono lavorare sono stati persi guardate 5.700 posti e altri 10.000 persone si trovano a rischio in questo momento con una situazione lavorativa veramente veramente pesante eccolo qua anche il titolo spiegato meglio nelle prime pagine del quotidiano nel primo trimestre si dice sono scomparsi quasi 6.000 posti di lavoro le assunzioni sono scese del 23 per cento le stime quindi indicano 19.000 ingressi rispetto al mondo del lavoro erano 24.000 del 2020 quindi abbiamo una differenza di pari 6.000 come abbiamo letto nel titolo se saltasse questo stop al licenziamento sapete che comunque abbiamo uno stop un fermo da parte del governo anche per fermare le aziende in vista alla luce proprio dei licenziamenti e del calo delle produzioni almeno 10.000 occupati in questo momento rimarrebbero proprio in 24 ore a casa quindi guardate anche l'importanza di questo stop che era stata dato nel precedente governo conte con questa regola appunto di fermare i licenziamenti almeno fino alla primavera che stiamo vivendo ok questo è un po' per quanto riguarda il quello di cui stiamo parlando oggi abbiamo vaccinazioni che partono e vanno insomma a raffica per quanto riguarda anche Atenei Questura e Pura Pordenone domani in lista ci saranno 1700 persone a Udina Trieste oggi tocca anche alla polizia le prime dosi sono state 1.408 proprio anche agli over 80. Ancora abbiamo tante notizie legate alle varianti ne abbiamo parlato in apertura proprio di queste rassegna stampa proprio andando a ricordare anche quelle che sono le varie percentuali legate alle regioni abbiamo un 20% di persone contagiate da covid legato alla variante Travento e Friuli Venezia Giulia che cosa c'è da sapere abbiamo un decalogo un po' oggi riportato nel giornale di tutte quelle che sono un po' le principali preoccupazioni e andiamo ancora a rimarcare proprio quello che è l'argomento di cui abbiamo parlato poco fa ovvero delle vaccinazioni e dell'approvvigionamento da parte di Emilia Veneto e Friuli Venezia Giulia perché ecco qui c'è questa corsa all'acquisto dei vaccini da parte del Friuli che si è accodato si è associato anche l'iniziativa di Zaya di andare quindi a prenderli in autonomia Zaya che gira l'offerta anche alla nostra regione l'ipotesi è quella di comprare ben 27 milioni di dosi Federica intanto incontra a Roma i ministri Gelmini e Giorgetti e anche ancora ieri ha incontrato pure Salvini con la quale appunto ieri ha pubblicato alcune dichiarazioni e anche quelli che sono stati gli argomenti del quale hanno parlato allora oltre a dare il buongiorno tra un po' continuiamo anche con altre informazioni vedo che siamo anche in tv entrati in diretta un pochino più tardi oggi sul digitale terrestre ma ricordo che appunto ci sarà la replica integrale dall'inizio alla fine alle 16 e 30 buongiorno allora io saluto Loredana Martin che dice chiarissimo dell'informazione buona giornata ciao Loredana buongiorno agli amici che mi seguono tutti i giorni ma anche a quelli nuovi allora San buongiorno Roberto ora ti vedo in tv sì oggi play out pallincesto partito un po' più tardi in tv ogni tanto dai qualche piccolo problemino tecnico ma su facebook comunque eravamo puntualissimi come sempre saluto Anna Maria dai che andiamo avanti Marco Franzantori Maurizio Turchetto buongiorno ancora tanti amici che mi salutano come Andrea Bozzolan che dice complimenti per il programma da Rovigotto buongiorno Andrea ciao grazie che sei gentilissimo abbiamo tanti amici come Alessandra che mi saluta Alessandra Fantin buongiorno a tutti da Zanodecimo la provincia di Pordenone quindi la vedo collegata puntuali e presenti Loris Battistella con un bel buongiorno Roberto ragazzi ancora ancora una volta vi dico come siamo partiti molto brevemente in 15 secondi vi riassumo dicendo la notizia principale del giorno con la quale aprono un po' tutti i giornali quotidiani è la controntendenza del Veneto e Friuli Venezia Giulia con i dati confortanti rispetto al resto d'Italia quindi pochi ricoveri sicuramente ridotti terapie intensive che in Veneto hanno un record minimo di 91 unità rispetto alle centinaia diverse centinaia che registravamo negli altri giorni abbiamo parlato anche adesso lo vediamo ancora in Friuli Venezia Giulia dei ricoveri ordinari che finalmente dopo mesi scendono sotto alle 400 unità questo ci fa ben sperare dall'altra parte però siamo realisti e abbiamo parlato come da fonti autorevoli di governo nel pomeriggio di ieri abbiamo appreso la volontà da parte dei ministri del governo di andare a istituire dei lockdown mirati ok specifici non stiamo parlando di chiusure nazionali come tanti sono molto spaventati e come difulgano poi in modo infondato determinati virologi no? non è questo dicono andremo a chiudere nel fine settimana quei comuni, quelle province e o quelle regioni che manifestano un tasso di percentuale di positività legata a persone che manifestano quindi infezione anche legata alla variante troppo alta quindi delle misure degli interventi di chiusura con zone rosse cosa vuol dire? che ci si sposta di casa, si esce di casa solo per motivi legati all'estrema urgenza e necessità in quelle piccole zone diciamo specifiche dove questo viene rilevato quindi niente che ha a che fare con quello che si legge spesso in molte notizie online dove si dice chiudono l'Italia per tre settimane no non è questo l'ho detto più volte scusate se ogni 10-15 minuti lo ripeto abbiate pazienza ma è importante anche dare la corretta informazione quella che arriva dalle fonti ufficiali e non quella che arriva da chi si inventa le notizie va bene abbiamo parlato non solo di questo questa mattina abbiamo parlato anche di Friuli e Veneto molto attivi virtuosi da un punto di vista dell'approvvigionamento delle fiale e delle vaccinazioni abbiamo due offerte importanti che arrivano dall'Europa a pari costo rispetto a quelle che avremmo dovuto attendere ad acquistare solo in un secondo momento a queste si è accodato anche la regione Friuli lo stiamo leggendo perché l'offerta è stata girata da parte di Zaia anche a Massimiliano Fedriga che ne ha colto chiaramente la massima disponibilità e intenzione a voler procedere con l'acquisto di queste milioni di dose andiamo? andiamo avanti ancora abbiamo parlato anche di licenziamenti di lavoro vediamo e speriamo che ci sia questa proroga per quanto riguarda il blocco dei licenziamenti dovete sapere che il governo Conte aveva istituito uno stop ai licenziamenti nel precedente decreto che ormai tra un po' sarà in scadenza che ha salvato proprio matematica non è un'opinione ha salvato 10.000 lavoratori se non ci fosse stato questo intervento da parte dell'ex governo Conte 10.000 persone oggi sarebbero rimaste a casa dal lavoro abbiamo avuto comunque un calo come apprendiamo dalle prime pagine dei giornali del 23% di persone che non stanno lavorando rispetto all'anno 2020 quindi nell'ultimo anno ancora il tasso di occupazione nel mondo del lavoro è sceso di 23 unità su 100 e non sono pochi vuol dire praticamente che ancora qua più di una persona su 5 non sta lavorando rispetto ad un anno fa queste sono le brutte ahimè conti e numeri che ci arrivano direttamente da quello che sono le primi indici che vengono pubblicati ma ieri in Friuli Venezia Giulia saluto tutti gli amici che mi seguono a nord-est ancora poi parliamo anche di cosa succede in Veneto con le vaccinazioni ma ieri insomma i nostri nonnini tutte le persone più anziane hanno iniziato a spostarsi per ricevere il vaccino dove all'ente Fira per quanto riguarda Martignacco siamo in provincia di Udine le prime vaccinazioni e l'emozione dei nonni che dicono finalmente fatelo ok iniziata questa campagna tanto pubblicizzata della immunizzazione per tutti gli over 80 che stanno ricevendo giornalmente diverse centinaia di iniezioni in fila ieri a Martignacco 252 anziani a disposizione in totale 6 postazioni e presidiate da medici infermieri presenti anche i volontari della Croce Rossa Italiana oltre che Protezione Civile per quale ringraziamo per il supporto che stanno dando in queste operazioni importanti che si stanno susseguendo giornalmente proprio per le vaccinazioni dei più anziani poi ancora arrivano le prime lamentele però da parte degli esponenti del partito democratico in particolare da Santoro e Jacop che dicono ok bene per quanto riguarda tutti i pazienti trasportabili utenti scusatemi non pazienti utenti trasportabili che possono muoversi e quindi andare a ricevere le iniezioni loro sono molto più critici invece riguardo a tutti quelli allettati pazienti non deambulanti non trasportabili quelli che già hanno delle problematiche serie anche preoccupanti di salute per quanto riguarda invece le tanto promesse vaccinazioni a domicilio che ancora non sono partite in questo caso anzi sulle quali proprio il partito democratico fa opposizione dicendo abbiamo seri dubbi su quelle che sono le modalità e anche i criteri per accedere e ricevere la vaccinazione nelle case degli anziani ultraottantenni in questo momento c'è confusione che viene denunciata proprio come ieri abbiamo riportato in un articolo da parte del PD eccolo qua abbiamo anche alcuni volti oggi il giornale si spinge oltre va a andare a riportare alcuni scatti di quelli che sono stati ieri i primi tra virgolette nonni che hanno ricevuto le vaccinazioni in Friuli Venezia Giulia con nome e cognome per dare anche un volto un nome a queste persone andiamo avanti dai oltre alle vaccinazioni di cui abbiamo parlato ormai da un sacco di tempo vediamo una panoramica veloce flash di quello che succede a Udne provincia poi torniamo con le notizie principali del giorno con riduzione e dati confortanti in Friuli Veneto per il contagio e recovery e poi andiamo a parlare ancora di questa benedetta variante e andiamo a smontare quelle che sono le fake news che girano sui lockdown nazionali che riguarderebbero l'Italia che in questo momento non c'è alcuna fonte autorevole che ne dia conferma quindi su questo andiamo a parlarne ancora tra un po' il covid riduce ancora le entrate anche dei comuni le tasse restano ancora invariate fortunatamente non ci saranno ritocchi per quanto riguarda ancora le tasse che i cittadini dovranno versare tribunale c'è un'asta da 2,4 milioni per immobile terreni del fallimento legato all'EMA e poi abbiamo l'operazione ringraziamo il nucleo antisofisticazione dei carabinieri di Udine che hanno svolto insieme in collaborazione in sintonia proprio anche con tutti gli altri nuclei operativi del NAS ovviamente le ispezioni dove le ispezioni questa volta negli studi delle guardie mediche al setaccio ne sono passati ben 31 in Friuli Venezia Giulia in alcuni casi 1-2 casi sono state trovate alcune anomalie alcune cose che non andavano principalmente legate agli ambienti all'igiene alle muffe insomma un po' quella che è la salute chiaramente che deve essere rispettata anche in queste strutture quindi bene per quanto riguarda i controlli che hanno riguardato 390 presidi sanitari anche nella nostra regione abbiamo in questura una notizia che ci arriva dalla polizia degli uomini della questura di Udine dove appunto picchia la moglie e la minaccia per anni la donna aveva denunciato le violenze domestiche da parte dell'uomo alla fine quando hanno cercato anche di dividersi e separarsi l'uomo l'ha pure minacciata di morte stiamo parlando di un 49enne tunisino che finalmente è stato arrestato dalla squadra proprio della squadra mobile della questura di Udine grazie alla polizia e allora sempre pronto lavoro ancora abbiamo la storia legata ai 40 anni del Malignani che saluta il suo C-45 allora andiamo a vederlo insieme questo aereo conservato ancora dall'agosto del 1981 notizie più leggere anche in questa pagina per quanto riguarda le costruzioni aeronautiche del seduto Malignani che è stato smontato e poi restituito in questo caso invece all'aeronautica militare andiamo con cose più serie invece c'è molta preoccupazione andiamo in montagna ad Amaro da ieri mattina stiamo parlando di una persona scomparsa ma si tratterebbe praticamente di un 48enne ormai certo al quale appunto ci sarebbe anche un nome e un cognome David Concina di 48 anni che va a correre e non torna a casa si sta cercando grandi spiegamento di forza anche ieri ci arriva la nota anche oltre ai video del fuoco ieri sera ieri pomeriggio il soccorso alpino ci fa sapere regionale che è stato coinvolto nelle ricerche di David che è uscito verso le 12 di lunedì io approfitto per darne la comunicazione e la notizia anche perché se qualcuno dovesse avere delle informazioni bisogna assolutamente contattare le forze dell'ordine allora si sono perse quindi le tracce dalle immagini delle telecamere si vede che stava camminando vicino alla rotonda del paese dopodiché più nessuna traccia di David lo ricordiamo ancora una volta il 48enne lavora in una dita di Tolmezzo non ha fatto ritorno nella sua casa che si trova ad Amaro ha lasciato l'abitazione senza portare il telefono cellulare senza lasciare nulla di scritto quindi ancora non si pensa nemmeno ad altri gesti alternativi oppure tragici in questo momento non si riesce a comprendere cosa possa essere successo sicuramente vi teniamo prontamente informati anche sulle nostre pagine facebook sito web ancora a Tervisio poco più in là si parla di Dinka che rientra invece in aula dice addio alla civica crea un gruppo del Movimento 5 Stelle c'è preoccupazione a Tolmezzo perché sarebbero in aumento i contagi nelle scuole ancora in Carnia che sembrava un po' un'isola felice almeno nei periodi precedenti purtroppo viene presa di mira ancora da tanti contagi da coronavirus ancora vediamo che a Tolmezzo abbiamo osilo elementare in scuole medie dove si registrano ben 84 persone isolate tra questi oltre a studenti allievi vi sono anche pur maestre proprio sia degli elementari ma anche alle scuole medie dove ad esempio abbiamo 23 alunni che sono finiti tutti in quarantena questa la situazione allora della montagna della Carnia abbiamo ancora San Daniele del Friuli nonni di San Daniele che si vaccinano così riacquistiamo dicono la libertà non vado oltre ne abbiamo già parlato come da lunedì sono iniziate le vaccinazioni per tutti gli anziani trasportabili e deambulanti che comunque hanno già compiuto gli 80 anni che stanno ricevendo le vaccinazioni sia nella fiera appunto di Udide ma ancora anche in altre strutture ancora a Venzone venerdì ci sarà questa iniezione antivirus anche a 21 ospiti delle case di riposo quindi ancora anziani che vengono vaccinati pure nelle strutture a loro dedicate o dove sono ospitati Cividale del Friuli contagi anche al Paolino da Quileia a casa vi sono due classi dell'agrario che finiscono in isolamento in quarantena si sono registrate infatti casi positività in una seconda e poi in una quinta di sezioni diverse da domani ci sarà pure il test controlli ancora all'Ipsia Mattioni aperta anche un'aula studio a Carraria ancora sempre a Cividale del Friuli abbiamo oltre 250 accessi ai tre poli museali in una sola giornata pubblico lunedì anche con marionette nel centro Vittorio Poltrecca il tutto lo ricordo fatto chiaramente in sicurezza però insomma vediamo che anche qui la cultura e l'arte prosegue abbiamo Taipana manca il segnale telefonico ancora Platischi isolata a due mesi abbiamo l'immagine proprio del primo cittadino il sindaco Alan Cecutti appunto doveva riferire a denunciare questa agonia tra virgolette telefonica nella piccola borgata appunto frazione del comune montano di Taipana a Campo Formido cresce la polizia locale è stato assunto un terzo vigile e c'è pure un altro autovelox la giunta ha acquistato anche un etilometro e una macchina ancora il sindaco il primo cittadino proprio dice ci auguriamo di avere presto il quarto agente proprio ancora più accanto andiamo a San Giovanni al Natisone con altre notizie cambiando argomento si parla qui di spazio per quanto riguarda proprio un oasi naturalistica al posto della ex polveriera la giunta infatti cosa fa va ad approvare uno studio di fattibilità per un progetto che vale in totale 5 milioni di euro abbiamo ancora la comunità del medio friuli ancora tensioni politiche che frendano la possibilità di rilanciare Codroipo qui abbiamo anche il PD con Giuseppe Damiani e le sue dichiarazioni odierne nel quotidiano ancora si parla invece di Butrio siamo sempre in provincia di Udile donatori di sangue che incontrano pure gli studenti il dono che è stato promosso proprio all'interno delle scuole tra i giovanissimi soprattutto per sensibilizzare su questa tematica della donazione tra chi è più giovane abbiamo l'addio purtroppo andiamo nella bassa fruleana andiamo a chiudere col messaggero con purtroppo l'addio dicevo all'imprenditore ittico Ghenda abbiamo il 79enne che era rimasto contagiato in quarantena le famiglie che hanno avuto contatti con lui abbiamo pure il dolore tutta la parentela e vediamo l'immagine qui di Franco che aveva 79 anni ancora bassa e fruleana abbiamo Cervignano c'è lo stop agli slalom in bicicletta è stata sistemata la ciclabile quella che proprio porta in direzione della frazione di muscoli ancora San Giorgi in Ogaro l'appello dei medici di famiglia ci siamo anche noi per vaccinare in qualche modo cercano di essere coinvolti in tutto questo sicuramente lo saranno perché ora alla luce anche della partenza delle vaccinazioni nelle varie sedi dove vengono fatte le iniezioni si sta guardando proprio alla domiciliarità ovvero il fatto di portare la vaccinazione a casa direttamente a tutti quegli anziani che non sono in grado di deambulare o per la loro fragilità e criticità da un punto di vista delle patologie non possono essere trasportati nei centri di vaccinazione ancora abbiamo il coraggio di Rosa la testimonianza che arriva dalla tisana 91 anni paura il vaccino va fatto abbiamo diverse immagini oggi nel giornale per quanto riguarda anche anziani nonnini proprio nella cittadina della bassa di la tisana dove appunto si sono sottoposti in modo volontario chiaramente alla vaccinazione uno di questi abbiamo Rosa che ha 91 anni non ha paura e va insomma a ricevere il vaccino in due giorni i numeri ci raccontano di 220 iniezioni a ultraottantenni proprio nel nosocomio cittadino latisanese la speranza anche di Loretta poi dice potrò tornare a fare la vita di famiglia mi manca eccetera eccetera con tante tante testimonianze ancora abbiamo a Lignano si parla di politica con l'opposizione che incalza sugli aiuti del comune per la stagione turistica e poi ancora la notizia che già abbiamo pubblicato nella giornata di ieri con questo tentato furto durante il giorno di mercato il mercoledì sempre nella città di La Tisana sempre nella bassa cosa succede? una notizia a cavallo proprio tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia perché riguarda proprio due nomadi domiciliate in un campo nomadi di Portoguaro che approfittano della giornata un po' di caos del mercato infrasettimanale di La Tisana per andare a rubare all'interno degli appartamenti e dopo avere insomma aperto una porta blindata non si sa come senza alcun tipo di infrazione le donne sono state sorprese le giovani di 30 e 21 anni dal proprietario che era entrato in abitazione allertato l'112 i carabinieri sono riusciti in qualche modo comunque a bloccarle e a denunciarle in questo caso vediamo che sono rese responsabili anche già di precedenti furti e ancora le donne sono state fermate in questa notizia che ci arriva e ringraziamo il norma il nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di La Tisana per queste informazioni che ci hanno dato ancora torno in diretta con voi per ricordare un attimo il numeretto come spesso faccio ma solo 30 secondi perché vado veloce con il gazzettino e torniamo con l'argomento del giorno stiamo parlando oggi di situazione in miglioramento per quanto riguarda coronavirus contagi e meno ricoveri negli ospedali sia del Friuli che del Veneto con il minimo record che abbiamo raggiunto in entrambe le regioni quindi bene questo ma dall'altra parte preoccupa ancora diciamolo la variante di questo virus che ancora non bene non si conosce e per il quale il governo si dice intenzionato andare a porre nuove limitazioni specifiche mirate soprattutto durante il fine settimana il banco di prova ci sarà venerdì quando arriverà il monitoraggio con i nuovi colori delle regioni che sicuramente ci porteremo dietro almeno fino al 5 marzo per vedere analizzare quali saranno quei comuni o quelle province o quelle regioni che potranno subire già alcune limitazioni a fronte della percentuale del contagio allora il numeretto dicevo 327 94 39 574 faccio un ringraziamento agli amici che mi stanno sostenendo vedo che mi date un grande sostegno con diverse condivisioni anche oggi commenti ma non solo e poi tanti anche che ci vieno un po' di stelle come sta facendo Micaela buongiorno Micaela grazie per questo sostegno importante e poi tanti altri andiamo vedete che stiamo scorrendo quelle che sono le pagine con le quali abbiamo aperto proprio le notizie di oggi con queste notizie proprio legate tra un po' di speranza per quanto riguarda meno ricoveri negli ospedali e un po' di preoccupazione legata alle varianti questa variante che tanti dicono viene presa come una scusa dal governo per tenerci chiusi in casa no non è esattamente così nessuno parla di un lockdown nazionale ma si parla ancora una volta di andare a prevenire il contagio soprattutto nei momenti dove questo si concentra ovvero proprio legato al fine settimana ok non è quello che a volte si legge allora vi sto mostrando il gazzettino meglio la locandina quella della Venezia Mestre abbiamo purtroppo una brutta notizia per quanto riguarda un ex calciatore che già militava anche nel Vicenza che coltivava la marijuana nella sera vediamo se vi sto mostrando il giornale perché non lo vedo in tv no mi ero dimenticato eccolo qua vi mostro il giornale giustamente non ve lo stavo mostrando allora questa locandina ripetiamo della Venezia Mestre del gazzettino vediamo qualche notizia che ci arriva proprio da queste zone un po' da San Donà fino a Portoguaro semiché l'altagliamento Bibione poi andiamo anche con la provincia di Pordenone eccolo qui dicevo l'ex calciatore sorpresa coltivare le piante di sostanza di marijuana proprio nella propria abitazione a scorzè è finito i domiciliari Luigi Sartor lui che giocò già anche con Juventus ma come dicevo poco fa anche con il Vicenza e poi ancora con l'Inter ancora sempre nelle locandine nei principali quotidiani di oggi ne dico a livello nazionale troviamo notizie legate alla variante inglese ora si va verso il test a tutti i bimbi stiamo parlando di Mestre dove ieri mattina per chi mi ha seguito ha sentito come appunto è emerso un focolaio quindi tante persone contagiate trovate positive al virus ma quale a quello legato alla variante che preoccupa i virologi e il governo variante inglese test a tappeto e preoccupa il focolaio nelle scuole di cui abbiamo parlato ieri mattina tamponi quindi disposti per alunni ma anche insegnanti del plesso di malcontenta mestre e tutti i loro possibili contatti altro fronte abbiamo anche alla Marco Polo di Portoguaro indagini sull'ipotetica mutazione verranno eseguiti effettuati proprio questa mattina i test agli alunni delle scuole di Portoguaro il Marco Polo il Dipartimento di Prevenzione dell'US4 assieme anche all'Istituto Compressivo Pascoli ha deciso in via ricordiamolo precauzionale quindi nessun allarmismo in merito ma vogliono sottoporre ai test rapido tutti gli alunni della scuola primaria dove nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio anche per analizzare la natura del virus che appunto è emerso anche nelle zone del Portoguarese abbiamo ancora problemi e criticità legate ai bus in Veneto Orientale pendolari pieni salta la capienza ridotta vedete che ancora soprattutto in provincia di Venezia ci sono queste denunce da parte di lavoratori e studenti che dicono bene ma abbiamo ancora mezzi di trasporto troppo pieni con tante immagini che arrivano come io vi sto mostrando in questo momento che prendiamo proprio dai giornali con troppe persone in coda soprattutto anche a Venezia e Mestre per quelli che sono i trasporti che dovrebbero essere ridotti ma soprattutto dove non dovrebbe esserci un rischio di contagio e invece è molto alto così loro fanno sapere andiamo a San Donà difende la sorella gli spaccano la faccia vediamo che arriva la cronaca da San Donà di Piave una lite domenica pomeriggio è avvenuta in piazza indipendenza in città dove un 19enne è finito all'ospedale con la mascella rotta la mamma dice era intervenuto perché alcuni giovani stavano importunando mia figlia di 14 anni ed è stato preso a pugni brutte notizie che arrivano proprio da San Donà ancora a Jesolo si cambia argomento si parla di pista ciclabile in spiaggia che ruba posti agli ombrelloni abbiamo questa polemica legata a questa situazione ancora ad Eraclea Finotto ieri abbiamo annunciato per chi mi ha seguito proprio l'addio di Finotto Eraclea era una storia chiusa l'ex comandante della polizia locale dice sono un organizzatore quello che potevo fare ormai l'ho fatto in merito proprio a quello che è il suo cambiamento è giusto che me ne vada l'intimidazione dei casalesi e poi risponde lavorando seriamente noi vigili finiamo per pestare i piedi a tanta gente ancora più in là invece andiamo in questo caso a Portoguaro salutando gli amici Villa Martinelli i lavori ora aumentano di 17.000 euro dal comune di Portoguaro c'è una via libera alla variante del cantiere che tarderà di ulteriori 15 giorni i piccioni hanno invaso infatti l'ultimo piano che ora dovrà essere ripulito proprio dal guano così almeno fanno sapere sempre a Portoguaro abbiamo un bonus del 100% per quanto riguarda patto tra confartigianato e banca San Biagio sarà più facile accedere a costo zero agli incentivi anche edilizi lo dico magari per quanti potrebbero essere interessati abbiamo anche questo articolo oggi poi ancora abbiamo a San Michele il tagliamento dove appunto ci sono altri 90.000 euro che sono stati stanziati per i buoni spesa da destinare alle famiglie vedete oggi l'articolo destinato proprio alle famiglie più bisognose soprattutto in epoca covid dove nel 2020 proprio l'amministrazione di San Michele ha erogato oltre 250 buoni spesa con una spesa di circa 60.000 euro abbiamo purtroppo altre altre notizie che arrivano anche da Concordia artista dei gioielli artigianali muore a 51 anni per un malore volevo dire purtroppo notizie di cronaca non confortanti abbiamo la di oggi Cristina Donadon di 51 anni siamo a Concordia Sagittaria sempre provincia di Venezia già parrucchiera vendeva i suoi lavori per corrispondenza si tratta di un malore improvviso che si è portato via Cristina deceduta proprio la scorsa notte aveva 51 anni era una ex parrucchiera ora invece commerciante di gioielli viveva con la socia amica di sempre Chiara ma ieri ha avuto un malore trasferita all'ospedale di Portoguaro in urgenza per lei non c'è stato nulla da fare ahimè anche questa notizia è riportata oggi nel gazzettino Sanstino e Portoguaro abbiamo un furto importante in un'impresa edile un bottino che ammonta a 8.000 euro i ladri che sono stati messi in fuga dall'arrivo della vigilanza e dei carabinieri i ladri che sono entrati in azione proprio durante la notte in un'impresa edile di Sanstino di Livenza dove il bottino ammonta a 8.000 euro poteva andare peggio anche per la sola SRL l'impresa edile che si trova proprio a Sanstino l'allarme era scattato all'1.30 della notte ok questo per quanto riguarda Gazzettino ora invece voglio andare in quella che è l'edizione del Pordenonese approfittando per salutare i tantissimi amici che mi seguono proprio dalla provincia di Pordenone tutti i giorni sono tanti diamo prima un'occhiata a livello generale di quello che è un po' la locandina che riguarda la regione Friuli e poi andiamo a vedere anche nel dettaglio un po' e cosa succede proprio anche nella città vi ricordo ancora che è disponibile la replica per quanti ci seguono per le prime volte magari non riescono a seguirci in toto perché devono andare magari al lavoro devono uscire di casa 16.30 pomeriggio canale 15 siamo pronti per le repliche Pordenone eccolo qua il virus gli errori fatali nelle varie RSA si parla di mascherine riutilizzate oppure che non erano adatte ai luoghi a rischio percorsi separati non rispettati ecco come è passato il contagio abbiamo una vera e propria indagine barra ricostruzione di quelli che potrebbero essere stati proprio quelle manovre non corrette non idonee che avrebbero appunto favorito il contagio all'interno delle strutture per anziani se ne parla oggi all'interno del giornale allora andiamo all'interno vedete che appunto c'è una vera e propria indagine il caso e si parte proprio da quello che succede in provincia di Pordenone con mascherine sporche percorsi io lo spiego brevemente ci sono dei percorsi all'interno delle strutture all'interno delle aziende ma anche dei reparti proprio dedicati a covid oppure per anziani che devono essere rispettati percorsi puliti per quanto riguarda il rischio di contagio e percorsi sporchi quando si è entrato in contatto oppure si è vicino a persone eventualmente potenzialmente contagiose questi percorsi non sarebbero stati rispettati e sarebbero tra gli errori emersi all'interno delle case di riposo dove una certa determinata responsabilità potrebbe essere proprio in capo a cura purtroppo anche degli operatori sanitari ancora ci sono non solo potenziali errori umani ma anche legati ai dispositivi come sta emergendo in questi giorni con diversi sequestri da parte di guardia di finanza e ancora ritiri dalle aziende sanitarie di mascherine non idonee cosa vuol dire che non filtravano quello che promettevano dispositivi spesso che erano insufficienti per tutti i dipendenti soprattutto nei primi mesi dell'anno ma ancora a volte riutilizzati troppe volte e a volte ancora mascherine ffp2 non filtranti in modo adeguato ecco io vi ho rassunto in 30 secondi ma l'articolo occupa una pagina intera oggi del gazzettino in edicola con questa indagine ancora vaccini nel capoluogo anche di Pordenone tra emozioni e coda a torre e dose anche al presidente degli amici del cuore Battiston che dice io avrei reso obbligatorio a tutti non entriamo ora nella questione della obbligatorietà altrimenti non ci usciamo più ma insomma Friuli Ocide Ventale che ieri ha ricevuto oltre 330 iniezioni proprio legate anche al vaccino anti-covid il tasso di contagio è a livello minimo del 2020 questa è la notizia d'apertura io oggi ho aperto da diversi giorni un po' anche per smentire quelle voci che circolano in certe testate riguardo alla situazione preoccupante in Veneto e Friuli Venezia Giulia stiamo registrando in queste giornate il record ai minimi storici sia di ricoveri negli ospedali non mi stanco di dirlo ma anche soprattutto per quanto riguarda il tasso di contagio che ieri è stato del 3,0 qualcosa per cento proprio in regione idem dell'1,8% è in Veneto mentre invece abbiamo avuto il record minimo storico di terapie intensive occupate in Veneto di 91 unità che non succedeva da mesi in Friuli Venezia Giulia per la prima volta siamo scesi sotto quota 400 ricoverati per quanto riguarda i ricoveri ordinari terapie intensive che si fermano a 60 unità in Friuli ok ieri 260 casi purtroppo abbiamo ancora giornalmente diversi decessi ieri 10 nello specifico ricoveri in picchiata guardate che le cose che vi sto dicendo non sono invenzioni ma sono frutto proprio di quelli che sono i dati ufficiali proprio che arrivano dalla regione Friuli Venezia Giulia cambiamo pagina basta virus parliamo però delle conseguenze della questa maledetta epidemia andiamo a piancavallo anche oggi dove si contano ancora i danni con lo stop che è arrivato domenica dal ministro Speranza per quanto riguarda insomma la nuova ordinanza che blocca la montagna fino al 5 marzo poi non sappiamo cosa succederà intanto le prime stime arrivano anche in provincia di Pordenone dove appunto abbiamo un indotto proprio legato al turismo alla montagna agli impianti alberghiero bar eccetera che dice oltre 60 milioni di perdita pesantissime leggiamo nel quotidiano le conseguenze di questo stop degli impianti del polo pordenonese Toffoli che dice alberghi e società di noleggi hanno lavorato a meno del 10% di fatto hanno lavorato davvero pochissimi ma oggi un lungo lungo articolo con questa stupenda immagine legata proprio alla imbiancata Piancavallo ancora che purtroppo non può godere di tutta questa neve per effetto insomma del rischio del contagio e dell'ordinanza firmata dal governo praticamente tre giorni fa ancora abbiamo Germania che blocca i tir salutiamo i nostri amici autotrasportatori tanti ci seguono come l'amico Fabio che condivide in tutti i gruppi legati ai camionisti di Veneto e Friuli Venezia Giulia Germania che blocca proprio loro a rischio forniture materiali per l'azienda ieri commentava come per presa diretta proprio come testimonianza quello che è successo con 40 km di coda ancora il Brennero tampone per tutti i camionisti ancora materiali fermo e ancora i rischi proprio per quanto concerne le forniture nelle aziende Brennero zona rossa obbligo di tampone l'abbiamo detto ieri lo ricordo e lunghe code molti di autotrasportatori di Pordenone che sono rimasti in forte difficoltà forza un abbraccio virtuale a quanti appunto sono in viaggio la farmacia Kossler novità in centro a Pordenone cambiamo argomento cambia sede c'è l'addio al corso dopo più di 50 anni punto vendita che si trasferisce in via De Paoli il proprietario dice ci sono nuovi spazi ma è un dispiacere questa è la notizia che arriva direttamente proprio dal centro abbiamo Mauro Corona che si ferisce Mauro Corona a Erto che cade sulla neve e si rompe una spalla quindi facciamo tanti auguri di pronta guarigione anche a Corona appunto tra gli auguri anche quella di Bianca Berlinguer che ieri pubblica un post proprio anche sui social per ricordare l'infortunio lo vediamo qui nell'immagine che vi mostro ora di Mauro Corona che doveva essere appunto ospite in trasmissione con la Berlinguer che appunto saluta direttamente a casa alla luce proprio di questo infortunio nulla di grave ma insomma un piccolo disagio per Corona approfittiamo per anche salutarlo ancora non era il locale dello Sniffo è stato assolto c'è un pizzaiolo che ieri è stato scagionato dopo aver utilizzato la sua pizzeria come ritrovo per consumare cocaina questa accusa che è stata smontata due anni fa ci fu l'intervento dei poliziotti in via della tessitura legale che dice dopo il blitz non ha più potuto riprendere l'attività e poi ancora guardie mediche l'abbiamo già visto nel messaggero Veneto ma vi ricordo operazioni importanti in tutta la regione con quasi tante tantissime insomma 390 in totale le ispezioni ancora guardie mediche 30 quelle legate proprio al Pordenonese da parte dei carabinieri ancora covid contagi in calo lo diciamo da giorni prosegue questo trend a conferma anche per gli amici che mi seguono dalle zone occidentali del Friuli quindi tutta la fascia del Pordenonese si va a registrare questo calo del contagio cosa vuol dire non che facciamo meno tamponi come dico spesso ma che questa percentuale del tasso di positività che si evince si rileva come facendo appunto il conto tra quanti tamponi vengono fatti quanti test e quante persone risultano positive all'infezione questo rapporto è sceso al 3% quindi ci sono attualmente in regione e anche in provincia di Pordenone 3 persone su 100 positive al covid ok in discesa sono 28 per quanto riguarda i positivi in ospedale sono iniziate le vaccinazioni come già abbiamo riportato a tutta la popolazione ultra 80enne abbiamo ancora incontri per quanto riguarda Sacile quartieri sospesi se ne parlerà in primavera il sindaco norme sul distanziamento ancora non consentono assembramenti e quindi ancora dovranno mantenere tutte le regolette che conosciamo a Fontana Fredda abbiamo l'invito del PD firmate la legge contro il fascismo c'è una proposta di legge di iniziativa proprio popolare contro propaganda e la vendita di oggetti più sotto abbiamo invece linea bianca che sale in piancavallo abbiamo le telecamere della tv nazionale stiamo parlando di Rai 1 che anche in Val Tramontina vanno proprio in loco per conoscere le zone vi ricordo appunto fino al 18 febbraio le telecamere del programma accenderanno i riflettori sull'offerta invernale dell'area montana peccato che tutto sia chiuso al momento perché intanto ci si fa un po' di pubblicità che male non fa ancora la pro di Spilimbergo riparte con Mongiat in lizza tanti nomi politici come la previsione si è presentata un'unilista e oggi nel gazzettino per chi lo acquisterà ci sono riportati tutti i nomi a San Quirino abbiamo un ex politico che sconta la pena in carcere ieri riceviamo dal nucleo radio immobile Carabinieri di Pordenone riceviamo il comunicato a stampa che riporta proprio la notizia dell'imprenditore Alessandro Zanusso di 39 anni al quale appunto c'è questa esecuzione di sentenza che lo condanna a quattro anni di reclusione quattro anni e sei mesi per una tentata estorsione lesioni gravi all'ex socio in affari Alessandro Zanusso era stato anche candidato sindaco picchiava la vittima per indurla a ripianare tutti i debiti questa notizia che arriva come detto proprio fonte ufficiale dai carabinieri dal nucleo operativo dei carabinieri di Pordenone ancora andiamo ad Azzano andiamo a chiudere Azzano decimo fango rifiuti nel parco c'è la protesta delle famiglie dopo le giornate di pioggia i bambini non possono accedere più all'area giochi qualcuno propone di creare dei percorsi ma la consigliera delegata dice che in questo momento non si può ancora a Prata abbiamo una raccolta di cibo per i più poveri casa per casa anche con gli asinelli domenica Ghirano con i giovani volontari della fattoria sociale il ponte Buosi dice gli alimentari donati saranno poi distribuiti anche al centro solidale di Cesena bravissimi ancora abbiamo purtroppo sempre in provincia di Pordenone siamo a Casarsa anziani che finiscono il merino di falsi tecnici facciamo attenzione falsi avvocati falsi tecnici falsi marescialli dei carabinieri quindi ricordiamo e ricordate a tutti i genitori e i nonni di fare massima attenzione quando gli addetti entrano in azione per quanto riguarda contatori soprattutto nella fascia pomeridiana serale per chi si tratta di più delle volte truffatori e ultima notizia Kevin mago informatico premiato da con scienze andiamo a Zoppola per questa tesi dottorato sul recupero dei dati che è le 3 6 migliori in Italia abbiamo quindi Reutero 28 anni ora si sta occupando di come combattere le fake news vediamo Kevin eccolo qua abbiamo Kevin Reutero che fa parte della rosa di quei 6 ricercatori vincitori del premio nazionale lui è proprio di Zoppola per quanto riguarda questo importante riconoscimento pubblico vi mostro anche appunto l'immagine del giovane con i tanti complimenti a lui che a soli 28 anni insomma ha questo merito importante e San Vito al tagliamento si parla di mercato c'è una nuova graduatoria e vi sarà una riorganizzazione definitiva il mercato generale del venerdì gli amici di San Vito sanno bene appunto che si svolge avrà una riorganizzazione definitiva potrebbe essere appunto così per sempre dicono dal punto di vista dell'amministrazione allora andiamo con il numeretto vi ancora ringrazio per essere stati con noi faccio un saluto veloce agli amici per quanto riguarda che si sono collegati che hanno inviato un po' di commenti ma ora vi invito se volete anche a condividere il video se ci seguite con piacere avete questa possibilità ok per quanto riguarda invece gli amici che hanno donato un po' di stelle un saluto un abbraccio ancora più forte e virtuale a loro perché ci sostengono le stelle ci consentono di avere una buona recensione alla pagina quindi avere anche più visibilità avere maggiore persone che ci seguono follower e poi avere qualche centesimo da investire poi nelle varie cose nei vari servizi che diamo proprio a tutti quanti ci seguono e ci sostengono ok va bene io vi ringrazio vi saluto saluto anche tutti quanti hanno inserito almeno un commento vi invito ora a condividere e poi ci ritroviamo puntuali anche nei prossimi aggiornamenti oppure se volete su nerds24.it dove l'informazione non si ferma ma è attiva 24 ore su 24 un abbraccio e grazie ancora per l'attenzione forza e coraggio a tutti ciao ragazzi buon lavoro